salve ragazzi qui del 38 ricordate che abbiamo avuto un piccolo problemino problemino con con l'audio con il microfono non è colpa mia in realtà è stato non so come mai è stato impostato dal sistema non so perché la micro il microfono della webcam giustamente mi dispiace pure perché sono state ben cinque parti di registrazione una pezza all'altra e l'audio era faccia schifo cioè allora il gioco si sentiva però con il rumore di sottofondo mio dio punto checkpoint anzi voglio riavviarlo ok io spero che quello che sto sempre che adesso il gioco bene o male si dovrebbe sentire molto bene farò un check dopo questa registrazione dopo che sto però questa parte qui che come ricordate noi stiamo praticamente siamo ritornati nella base nemica dobbiamo distruggere bla bla è un santuario abbiamo scoperto tante cose tante cose il quello se n'è andato da qualche parte che fa ridere allora questa versione classica stavo guardando fa ridere la lucidità di una volta comunque ok siamo stati ma detto questo stavo dicendo stavo dicendo quindi mi dispiace che i video di precedenti sono andati con l'audio per il farsi fregare perché sentivo se si sentì un rumore di sottofondo del microfono oltre oltre alla voce mia pessima quindi succedeva che superava di gran lunga forse non è una cosa oddio come ha saltato male oh è stancata no le granatine del cavolo oh morto grazie oh mi ha caricato un colpo bruttissimo vabbè meno male lo scudo mi appare stavo dicendo mi dispiace molto che i video precedenti praticamente sono andati a farsi a quel paese quindi avete sentito poco l'audio e cose varie ma dispiace un po' ma è la mia impressione ho sentito un cretino urlare ah qui ci sono più covenant del previsto sembra che controllino un'intera regione se avete fatto caso a parte che qua ti manda la freccetta dove andare è fantastico ho dovuto alzare un po' il volume del gioco quindi mi dovete sentire sia bene a me e sia il gioco lo alzò giusto un pochettino che era effettivamente basso pure non mi ricordo perché era così l'aveva così abbastanza interessante le condizioni climatiche sembrano naturali non mi chiedo se il sistema ambientale non funzioni bene o se chi l'ha progettato voleva che ci fosse tempo a inclinare qui squadra Zulu richiediamo assistenza immediata dalle forze UNSG qualcuno mi riceve non credevo che fossero rimaste unità umane in questa zona della nera Cortana squadra Zulu ti ricevo squadra Zulu qui in Cortana restate in posizione stiamo arrivando ricevuto fate presto sono la che bello che sembra con quei arcade di una volta troppo bella io non volevo in quel fatto malissimo la cosa di sto gioco è che ti rubi gli armamenti dei nemici ma che sono i cimc ma i cimc ma in tutto ciò la zona che visuale bruttissima riviste che cosa è successo un minuto fa grande è finita adesso ho distrutto il veicolo alleato può essere che tristezza ok ma io ora dove devo andare mi scusa scusate ma dovevo andare ma c'è una porta lì non l'avevo visto non l'avevo visto che c'era una porta mi dispiace soltanto per il gameplay di primo però eh mi dispiace davvero tanto raga ci sarei molto malissimo wow bellissima ah ok penso che la alcuni hanno le come si chiede le palline le palle di affrontarle ma nel coraggio uè maestro bigliano e non male se non sarebbe di no troppo noioso che cavolo ogni volta eh no non va bene ricevi devo fare qualche partita online raga però prima voglio finire tutta la campagna taglie ah che noia allora comunque piccola parentesi ragazzi molti potranno pure che perché hallo infinite aveva una qualità di grafica un po schifoso beh in realtà è un po colpa dei creatori del gioco però del team di sviluppo però c'è anche da dire un'altra cosa se hai hallo hallo prende le caratteristiche dei sparatutto attuali perde la sua unicità la sua originalità dai dimmi che c'è la cinematica si è troppo bella la differenza è vero che questo è rimasto quasi uguale cambiano solo dei colori qua cambia tutta la mappa potevo lasciarli dormire però non me ne tenevo altri nemici è troppo bella sta voce adorabile non so se guardarlo nella versione originale che mi piace un botto o nella versione rimasterizzato vi giuro ragazzi qualcosa di poco ma è stata bellissima qui ma è stata bellissima qui io comunque sono una strada sono un mostro in tutti i giochi vabbè ma questi sono dinamiche di giochi che io andavo pazzo ed ero bravissimo ero una volta bravo bravissima no perché sennò mi sembra che mi vanta mi vanta la cosa oh grazie per la via spero che mi sentiate bene questa parte questo è l'inizio del quinto capitolo questo è l'inizio del quinto capitolo questo è l'inizio del quinto capitolo nooo volevo fare una cosa simpatica non è andata come volevo lo ammetto lo ammetto volevo fare una cosa stupi divertente da sclero proprio non è andata come volevo ma questa è andata come vueste ho fatto un riquezza ma è andata come voi non è andato come cosaまた tantissime non è andata come quindi si Oh, I'm warning I'm warning you, if I'm not running Oh, I'm warning you, if I'm not running Grazie a tutti Grazie a tutti Uh, zitti, zitti Posso forse far qualcosa, zitti Oh, è bellissimo che... Che cambia la... Oddio, ma qua c'era una... Oh, è bellissimo... C'è un veicolo là che io vorrei utilizzare Perché sono morti un po' di persone però... Qua, grazie Voi rimanete qua... Ah, mi volete proseguire? No, vabbè, ma che noia... Vabbè... È una zona innevata qui, che caccia è comunque... Vabbè... Comunque dai, stiamo giocando bene... Però io uso questo e... Arrivederci e grazie Ciao raga, io me ne vado... Ciao... 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 Un compagno la ha preso... Me lo ho... Allora? No, no... Lo prendo io, non sto incertato proprio... Ah... no, sono un cretino... ma questo è giusto ok ragazzi siamo in tre più o meno andiamo vabbè noi andiamo bellissimo no dai sul sasano addosso i miei compagni il mio compagno voleva fare il filo ma è molto malissimo andata il prossimo scusate ragazzi ma sono molto concentrato ma questo è malissimo no cavolo no tutta al capo no dai vabbè tutta al capo proprio no però carri nemici avvistati alla mia posizione sarà una giornata intensa i covenant hanno piazzato i carri a difesa del pubblico ragazzi sono in tre qualcuno che mi aiuti dai i miei compagni sono andati con a qualcosa di più Grazie a tutti 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 Grazie a tutti